Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bibio per la variante di Valico. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Lucca Est e Pistoia. Sulla Fipili un chilometro di coda per lavori in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. In direzione Firenze ci sono rallentamenti tra il Bibio, Pisa Livorno e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Posi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!